Il gruppo anticorruzione europeo che da tempo punta il dito sul nostro sistema di finanziamento pubblico a marzo scrive dal 97 al 2009 91 formazioni politiche hanno presentato rendicontazioni false e incomplete. In questo mare magnum noi possiamo solo fidarci e possiamo non fidarci di colui che è diventato popolare proprio scoprendo come si fanno i bilanci falsi, la nostra Sabrina Giannini. Stiamo raccogliendo le firme per approccare il finanziamento pubblico ai partiti. Però voglio dire, anche voi avete soffruito, avete avuto 150% in più, un po' tutti, no? Le spese che erano 10 vi davano 50. Come ripetere, il sistema ha previsto un rimborsa a forfetto. Non avreste potuto rifiutarli, no? No, noi abbiamo fatto politica con quei soldi, ma siccome ce ne è anche avanzato, noi non li abbiamo nascosti in Tanzania. Ma in tutto quanto avete preso voi in dieci anni di attività? Questo lo deve chiedere al mio tesoriere, ma non mi voglio nascondere su questo. Io non ricordo bene, comunque i primi anni sono stati senza altro nulla di favore. Io ho fatto un rapido calco, non so se è giusto, però fino al 2009-2008 sono stati 45 milioni, più o meno, è possibile? Non credo che le cifre siano, non lo so, perché... Non se lo ricorda la tesoriere nemmeno Di Pietro, che ha gestito insieme a lei milioni di euro del finanziamento pubblico. Sulla gestione della Cassa del Partito è esposto due denunce l'ex vicepresidente e cofondatore del Movimento Italia dei Valori, Elio Veltri. Il modo di gestire il finanziamento pubblico dell'Italia dei Valori è stato studiato accuratamente con una ingegneria di cui non c'è riscontro nell'esperienza italiana. E lei qui praticamente scrive tutto quello che ha visto da dentro. Che ho visto da dentro, che ho orchestrato da dentro, di cui sono stato complice inizialmente da dentro. Sono stato un po' l'anima nera, il bel zebu iniziale. L'avvocato Mario Di Domenico era uno dei tre soci fondatori dell'associazione parallela al partito Italia dei Valori, denominata sempre Italia dei Valori. Nel settembre 2000 io, Di Pietro e Mura andiamo dal notario Marini a Roma e facciamo un'associazione di queste tre persone. In previsione di ricevere il finanziamento pubblico è stata costruita un'associazione a tre, di cui non sapeva se non i tre che facevano parte dell'associazione. Di Pietro ha fatto il gioco delle tre carte, ha chiamato il partito Italia dei Valori, lista Di Pietro. L'associazione ha lo stesso nome, dentro lo stesso contenuto di documento giuridico, l'associazione Italia dei Valori. Io ero vicepresidente di tutto ciò non ho saputo. Del partito però, attenzione, non dell'associazione. Certo, infatti, del partito. Ma se i soldi pubblici vanno all'associazione avrei dovuto saperlo sì o no. Questo dualismo me lo posso spiegare? Non esiste un dualismo, è stato già certificato con due ordinanze più una sentenza, è stato già certificato che non esiste alcun dualismo. Perché io vedo qua, 13 dicembre 2010, il GIP di Roma dichiara che effettivamente sussiste una confusione in ordine alla duplicità dei soggetti giuridici. Dove l'hai letto questo? Nella ordinanza del GIP di Roma. Tra associazione e movimento politico Italia dei Valori. Lo statuto del 2004 distingue tra associazione e partito fino alla modifica statuale del 2009, di cui poi parleremo. L'Italia dei Valori nasce, come nascono tutte le cose, da un socio promotore. Così abbiamo fatto anche noi. Quindi lei ammette che ci fossero in qualche modo? Io quando l'ho fatto ho fatto con un punto che venisse fatto bene. Però io ritenevo anche che questo passaggio transitorio non dovesse durare troppo a lungo. Per quanto tempo siete rimasti in tre? Non ho idea, un paio d'anni, due tre anni, non mi ricordo quanto tempo. Gli anni in realtà sono nove. Quello che cambia dopo quattro anni è un socio, di domenico viene estromesso. Non si ricorda. Due giorni dopo è entrata ufficialmente come socio fondatore a tre, Susanna Mazzoleni, la moglie. Di Di Pietro. E ha mantenuto questa costante presenza di tre persone, facendo credere a tutti che ormai eravamo un partito aperto a tutti.